Andiamo ad analizzare un'applicazione web Music Response Project che ci consentirà di interrogare una base dati strutturata in formato JSON per poter avere informazioni su artisti, dischi, anno di pubblicazione e riportare queste informazioni all'interno di una pagina web utilizzando delle tecnologie che andremo ad esplorare. Prerequisito importante, conoscenza intanto dell'XML HTTP Request Object, XHR. Un oggetto JavaScript utilizzato per trasferire dati da un web browser a un web server che si basa sui concetti fondamentali di AJAX e JSON. Per quanto riguarda la parte sia di XML HTTP Request che la parte di AJAX consigliamo di fare riferimento proprio al sito di V3 School perché contiene veramente molto materiale utile. Infatti andiamo direttamente su questo sito ed esploriamo quanto ci viene offerto relativamente a un'introduzione su AJAX. Intanto diciamo il nostro snippet di codice che abbiamo per la pagina HTML è questo quindi un semplice pulsante e viene invocata una funzione loadDoc nel momento in cui viene cliccato questo pulsante. Per capire esattamente cosa fa questa funzione andiamo qualche pagina un po' più avanti ma intanto osserviamo quali sono i punti fondamentali quindi creazione di un oggetto XML HTTP Request chiamata inget ha un AJAX info.txt file che conterrà un campo testuale che dovrà essere restituito e visualizzato all'interno di questa pagina al posto di questo contenuto che abbiamo qui quindi andiamo qualche pagina più avanti e cominciamo ad esplorare. Allora intanto qui creiamo con questa prima istruzione un oggetto XML HTTP Request. Importante il concetto del cross domain ma lo vedremo successivamente quando andiamo a fare le chiamate direttamente a dei server esterni quindi per il momento mettiamolo un po' da parte. Abbiamo alcune proprietà di questo oggetto XML HTTP Request in particolare quello che ci interessano sono Long Ready State Change Defines a function to be called when the Ready State Property changes Cos'è la Ready State Property? Holds the status of the XML HTTP Request quindi sostanzialmente quello che succede è che il nostro oggetto avrà delle proprietà e un Ready State che potrà avere uno di questi valori quindi 0 la richiesta non è stata ancora inizializzata 1 è stata stabilita una connessione 2 è stata ricevuta la richiesta 3 è stata processata la richiesta 4 la richiesta è stata completata e la response is ready quindi fondamentalmente quando ne faremo una chiamata nel momento in cui il Ready State dell'oggetto passerà a 4 significa che effettivamente abbiamo fatto tutto quanto il flusso quindi la richiesta sarà fatta e la risposta è pronta la risposta sarà pronta e sarà presente all'interno di response text che risponderà, ritornerà la response data come una stringa oppure XML in formato XML lo stato della richiesta è uno stato classico delle richieste HTTP che saranno 200 che significa ok o ad esempio 403 forbidden, 404 not found eccetera quindi fondamentalmente quando lo status è 200 e il Ready State è 4 significa che in qualche modo la richiesta è stata fatta è stata portata a compimento e la risposta è pronta quindi On Ready State Change dovrà definire una funzione che dovrà essere chiamata quando appunto una di queste proprietà cambia in particolare noi siamo interessati a questo 4 e 200 quindi andiamo avanti i metodi che abbiamo a disposizione sono Open che specifica in qualche modo qual è il tipo di richiesta che stiamo facendo quindi se è una richiesta in GET o in POST qual è la URL quindi il Server File Location e se è sincrona o asincrona quindi sincrona e asincrona cosa significa? asincrona significa che non devo attendere la risposta quindi non è bloccante sincrona invece che è bloccante quando faccio la send quello che succede è che viene inviata la richiesta al server e una send senza parametri è fondamentalmente una tipo GET send string invece prevederà il fatto che io utilizzi appunto i parametri da inviare tramite POST quindi tornando un po' al nostro oggetto in questione adesso diciamo riusciamo a capire un po' meglio qual è la composizione di queste istruzioni quindi fondamentalmente quello che succede viene creato un oggetto di tipo XMLHttpRequest dopodiché appunto viene definito l'onReadyStateChange che dovrà invocare una function che sarà appunto quella invocata nel momento in cui succede qualche cosa cioè c'è un cambiamento di stato in particolare abbiamo detto che siamo interessati alReadyState4 e allo status 200 quindi che succede quando avviene questo quello che noi faremo sarà prelevare il testo che ci viene inviato dal server e posizionarlo all'interno del nostro elemento quindi questa è la parte che gestisce il cambiamento di stato quello che viene fatto è preparare la richiesta in modalità get verso questa urla di destinazione e poi viene fatta appunto la send quindi il flusso è questo c'è un evento che avviene sulla pagina web ad esempio la pagina è caricata oppure un pulsante è stato cliccato viene creato un oggetto XMLHttpRequest viene fatta una richiesta al web server il server processa la richiesta il server manda una risposta alla pagina web la risposta è letta tramite il javascript e quindi viene fatta un'azione opportuna in questo caso la scrittura del contenuto in un campo demo